Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nei miei nuovi video, sono il vostro helicotter, siamo qui sempre con driver, possiamo andare adesso a rifugio, una bella consegna, un fucile a pompa, vedete se mi fermava pura, ciao eh, questa è stata la copertura, sono infiltrato, questa è stata la copertura, è stata tutta, vabbè, proviamoci a me. A posto, panalino, bagagliaio, tutto rotto, tutto sfasciato, tutto sfasciato, a posto, poi c'è anche che siamo quasi a metà d'anno, quindi, oh my god, aiuto. Poi con la pula che sta dietro, non so come ci arriverò, veramente, cioè, mamma mia, la pula mi ha sfiorato, però, veramente, se ero ancora qualche centimetro a sinistra, boom, facciamo un frontale. Cioè, ti devi, grazie. Mamma mia, quello il cofano, è un po' più bello. Sono arrivato, non ho avuto problemi. Beh, portiamo la macchina sfasciata. Mamma mia, mamma mia, ecco, la pula adesso, non lo fa. Devo seminarlo, la devo seminarlo, cioè, la pula lì, la devo seminarlo, eh, vabbè. Aiuta, mamma mia. Aiuta, mamma mia. Ma, pura, non chiedo. Così. Mi è fatto, tutto male. Ti è piaciuto questo episodio? Lasciate like, mi piace, iscrivetevi al mio canale se non lo avete ancora fatto, e link di descrizione dei miei social. Come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.